Giovedì prossimo commissione consigliare riservata alla Tercop, il comune di Teramo ha intenzione di prendere in considerazione la proposta appunto della cooperativa che gestisce i parcheggi a Teramo. Abbiamo ritenuto utile convocare nuovamente una commissione per parlare della questione dei parcheggi a Teramo anche alla luce del documento che ci è stato fatto per venire da parte della Tercop e per quanto riguarda una proposta di gestione dei parcheggi ma anche per l'erogazione di eventuali servizi in favore dell'amministrazione. Questa mattina tra l'altro ho sentito il presidente della cooperativa invitandolo a presenziare all'incontro ed eventualmente allargando anche l'invito all'estensore della proposta che è stata ridatta ed è stata consegnata poi alla Tercop. Così poi anche con gli uffici e anche con tutti i consiglieri comunali andremo a valutare le varie proposte, le varie richieste che sono state messe nero su bianco ed eventualmente provare ad allargare poi questo discorso in eventuali commissioni anche successive. Sebbene la questione andrà approfondita comunque vi sembra fattibile la proposta presentata dalla Tercop? Allora la fattibilità dovrà essere data dalla parte amministrativa quindi dagli uffici però per quanto riguarda i servizi eventualmente inseriti in questa proposta sono servizi che effettivamente al comune servono come il verde pubblico, come la pulizia degli immobili comunali e anche per quanto riguarda l'affiancamento alle forze dell'ordine della polizia municipale oltre chiaramente alla gestione dei parcheggi che riguarderebbero comunque anche un'evoluzione nella gestione dei parcheggi perché con l'uso dei parcometri.